Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Si sono sposati in gran segreto nella nota località Ombra, da allora sono circolate pochissime foto delle nozze. Francesco Muglia, l'uomo che è riuscito a rubare il cuore della bella cantante Savonese. I due si sono conosciuti per un evento nel 2020 su una nave Costa Crociere, di cui il neosposo è vicepresidente del settore marketing. Tra di loro è stato subito colpo di fulmine e da allora sono divenuti inseparabili. Per il resto si sa ben poco di Francesco Muglia, non essendo neppure molto social, ha un profilo Instagram con 12.000 follower che però non aggiorna ormai da molti anni. Di lui si è spesa con queste parole al miele la stessa moglie, è stimolante, di grande iniziativa, creativo, in testa ha sempre mille progetti e cose da fare. Sono passati ormai diversi mesi dalle loro nozze e ad oggi Annalisa ha mandato in visibilio i suoi fan con uno splendido annuncio. Tra i progetti messi in cantiere c'è quello di diventare madre e un desiderio che ho da sempre, ma non ci siamo ancora dedicati. Chissà se dopo gli impegni del festival riuscirà a ritagliarsi un po' di tempo anche per questo sogno.